In Lombardia diamo una vera boccata d'ossigeno ai lavoratori. La regione anticipa già da oggi 42 milioni di euro sulla cassa integrazione in deroga. Così ha scritto oggi via Twitter il governatore Lombardo Roberto Maroni. Ieri intanto la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al decreto sullo sblocco dei debiti per la pubblica amministrazione. Per noi il nostro inviato Davide Cordo ha sentito l'onorevole Filippo Busin. Onorevole Busin, ha approvato in via definitiva il decreto che sblocca 20 miliardi quest'anno e altri 20 il prossimo anno frutto dei debiti della pubblica amministrazione. La Lega Nord ha votato a favore ma sperava che questi fondi fossero di più. Speravamo innanzitutto che fossero di più perché si stima che i debiti della pubblica amministrazione nei confronti del privato siano almeno il triplo, quindi 120 miliardi. Le ultime stime diciamo realistiche risalgono ancora il 2011 a novembre e parlano di 90 miliardi. Adesso si stima che sia cresciuto sia 120. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che consideriamo una grave ingiustizia il fatto che ovviamente vengano privilegiati in questo decreto i comuni, le province e le regioni che si sono comportate in modo poco prudente per non dire che hanno bilanci in dissesto o le gestioni perennemente deficitarie. L'abbiamo fatto con senso di responsabilità, abbiamo votato a favore perché questi soldi vanno alle imprese e noi votiamo a favore di queste e di tutte le altre iniziative, decreti legge, disegni di legge che vadano a favore dell'impresa e soprattutto di chi ci lavora in queste imprese. Da quando è iniziata la crisi nel 2009 almeno 500 mila dipendenti hanno perso il lavoro nel solo settore manifatturiero e sappiamo che questo è concentrato soprattutto nelle regioni del nord. E quindi diciamo con le riserve che abbiamo esposto nella dichiarazione di voto noi comunque siamo stati favorevoli e abbiamo dato il nostro voto favorevole al decreto. Grazie.